Vuoi aprire il tuo negozio online? La migliore soluzione? Il dropshipping grazie all'ingrosso di Giglio. Cosa vuol dire dropshipping? Semplicissimo, vuol dire nessun impegno d'acquisto, nessun problema di magazzino e nessuna preoccupazione nelle spedizioni perché a tutto ci pensiamo noi. E tu quindi cosa dovrai fare? Semplicemente attrezzarti di un pc e con una piccola quota di 200 euro poter affiliarti e avere tutti i canali a tua completa disposizione. assistenze dedicate, piattaforme, account, social, tutto ciò che ti serve per generare le tue vendite e garantirti i più alti livelli di provisioni in un mercato in continua crescita. Per cui cosa stai aspettando? Entra, fa parte del nostro team, diventa imprenditore di te stesso grazie all'ingrosso di Giglio.